Federica Milano e Federica Giorgio sono state scelte per rappresentare il personale amministrativo assunto per l'emergenza sanitaria dall'ASP Anissena. In totale si tratta di 128 lavoratori tra collaboratori e assistenti amministrativi, ingegneri ed informatici. Le due donne sono state lette all'unanimità, quali componenti del direttivo nel corso della prima riunione di coordinamento degli amministrativi dell'ASP di Caltanissetta, assunti per l'emergenza Covid-19. Svoltasi mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 19, tra i punti all'ordine del giorno la costituzione di un comitato. Subito dopo le noi lette inserite nel comitato regionale, con il compito di trasmettere le richieste di questi lavoratori precari per l'azienda sanitaria provinciale di competenza, hanno preso parte alla riunione di insediamento tenutasi in videoconferenza alle 21 della stessa giornata. La riunione provinciale è stata anche l'occasione per discutere di alcune tematiche che coinvolgono il settore, tra cui il futuro di questi lavoratori una volta concluso lo stato di emergenza. Federica Giorgio e Federica Milano non vogliono in alcun modo essere portatrici di interesse politico, si legge nella nota, ma soltanto di un interesse collettivo comune a tutti i precari assunti per fronteggiare l'emergenza Covid, che il 31-3 2022 proseguono potrebbero ritrovarsi a casa, nonostante il duro lavoro svolto e l'impegno profuso durante tutta la pandemia.